L'esperienza alla Regia di Caserta è stata meravigliosa, cioè lei è riuscita a fare della Regia qualcosa veramente grande. Come si può monumentalizzare Caserta, la città della Murcia? Bello, in parte è un tema simile a quello di Caserta, cioè noi abbiamo in Italia dei beni culturali, paesagistici, beni che valgono molto di più, di quanto fanno sapere, fanno capire. Quindi, benché Ravello abbia già un nome più famoso, più importante del mondo, c'è ancora tanto da fare. Soprattutto è importante mettere Ravello a disposizione del sistema di Napoli nella campagna dell'Italia. Abbiamo imaginato Ravello come il parco scenico dell'Italia. C'è un luogo che ha una grande forza durante il momento e che ci permette di dare luce a tutto il luogo. Le archette simboliche italiane, alcori, gli organisti.